Ciao a tutti, allora in questo video volevo sfatare un paio di miti sarò sincero tutto questo è iniziato da vedendo una puntata di Cartoni Morti che apro a parentesi io stimo tantissimo fin dai tempi dell'aura potentissima di Junior ogni puntata che vedevo mi faceva arrotolare quindi qui devo comunque fare i miei complimenti e auguri all'autore appunto di Cartoni Morti comunque dicevo da una delle ultime puntate di Cartoni Morti che in una delle sue solite digressioni satiriche ha portato alla luce un elemento che secondo me merita e necessita di chiarezza per tutti quanti perché è un argomento molto importante perché riguarda appunto il futuro e la salute più o meno di tutti lo spezzone della puntata in questione è questo ho sentito di questa nuovissima tecnologia il 5G ah è come 4G no 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 sicuro funzioni noi essere piene di 5G e non essere successo niente per ora la scienza espressamente ha detto che non ci sono prove che non ci saranno effetti a lungo termine quindi si tratta di una tecnologia profondamente pericolosa in cui appunto nella mitragliata di satira e sarcasmo appunto viene tirato in ballo anche il discorso del 5G che almeno da quello che sembra trasparire dal cartone è appunto il ridicolizzare le paure verso questa nuova tecnologia appunto del 5G portando come elemento il fatto che la Cina ha già da diversi anni il 5G lì e che il nostro 5G sarà uguale a quello della Cina e siccome in Cina appunto non hanno ancora avuto chissà quali problemi e danni anche da noi di conseguenza non ci saranno problemi purtroppo non è propriamente così e vediamo perché vediamo adesso appunto un documento rilasciato dalla Camera dei Deputati PDF riguardo appunto il 5G andiamo giù, scorriamo un po' e vediamo le frequenze interessate vediamo che ci sono le frequenze 700 MHz una banda tra i 3.6 e i 3.8 GHz e attenzione i 26.5 e i 27.5 GHz questa frequenza non è mai stata utilizzata come possiamo vedere in passato dal 2G fino al 4.5G le frequenze sono sempre state non superiori appunto ai 2.6 GHz quindi 2.6 GHz mentre col 5G appunto c'è la novità di questa frequenza che va da qualsegna 26 ma come abbiamo visto nel documento va dai 26.5 e 27.5 GHz qui vediamo appunto che lo rivadisce ancora e quindi abbiamo già questo primo dato che con il 5G arriverà una nuova frequenza che è molto molto maggiore alle frequenze a cui finora siamo stati abituati con tutte le tecnologie vediamo adesso invece in Cina per fare il paragone le varie frequenze che vengono interessate dal 5G e vediamo che il ministro dell'industria dell'informazione, della tecnologia, dell'informazione eccetera, il MIT ha dato all'asta, comunque ha aperto il bando e ha rilasciato appunto le frequenze che vediamo nella tabellina qua sotto in particolare vediamo frequenze dai 2,5 GHz fino appunto ai 4,9 GHz vediamo che appunto le frequenze molto maggiori nelle bande più simili alla nostra come 24, 27, 5, 37 eccetera UpGaming sono ancora in fase di discussione non sono state rilasciate come vediamo anche qua sotto dice che il MIT sta considerando l'allocazione dello spettro appunto a queste frequenze alte prossimo futuro e ancora informazioni ufficiali non sono state rilasciate quindi riassumendo è vero che il 5G che abbiamo in Italia sarà uguale a quello che hanno in Cina è uguale a quello che hanno in America e nelle altre nazioni? assolutamente no è falso veniamo adesso ad un'altra informazione molto importante che vede addirittura Forbes dire che possiamo dimostrare che raggi a 28 GHz ad alta potenza possono fare danni ma non fortunatamente alle potenze che vengono proposte per il 5G però comunque abbiamo un dato scientifico che a livello di frequenza il 28 GHz può fare danni quindi effettivamente c'è un dubbio una cosa molto importante che però non viene menzionata è se i danni che vengono fatti vengono fatti solo appunto ad alta esposizione ma non viene menzionata la durata dell'esposizione perché non è detto che un qualcosa che ci rechi danno a 28 GHz con alte potenze nell'immediato non possa recare danno a lungo termine se l'esposizione seppur a bassa potenza risulta molto prolungata una piccola parentesi senza dilungarmi troppo riguardo le centrali nucleari che tempo fa appunto si pensava che fossero solo le alte esposizioni ad essere dannose mentre con degli studi si è riconosciuto a distanza ovviamente di anni e anni che anche una piccola esposizione però molto prolungata nel tempo possa avere dei risvolti molto devastanti sulla salute in particolare si è visto ad esempio in Germania con lo studio che è stato fatto che chi viveva in prossimità o comunque nel raggio di 5 km dalla centrale nucleare nonostante la scienza ritenesse che viste le schermature appunto della centrale le radiazioni non sarebbero state dannose per i cittadini purtroppo questa convinzione si è rivelata sbagliata appunto con le spese di molti cittadini che si è appunto poi successivamente dimostrato aver contratto molte malattie come ad esempio tumori leucemie eccetera comunque tornando a noi saranno state fatti anche delle ricerche andiamo a vedere gli studi che effettivamente sono stati fatti sulle varie radiofrequenze in particolare questa nuova frequenza del 27 GHz o comunque frequenze lì vicine per vedere se tutta questa sicurezza che alcuni hanno nei confronti appunto del 5G sia fondata o meno in particolare vediamo questo studio 5G wireless una revisione di tutti o quasi tutti comunque i vari studi che ci sono disponibili delle frequenze tra i 6 e i 100 GHz vediamo qui un grafico dove nell'asse X vediamo tutte le varie frequenze raggruppate scaglioni e invece sulla linea nera vediamo i numeri di studi che riguardano appunto quella fascia di frequenza e la cosa preoccupante è che la banda di frequenza che interessa a noi italiani visto che rientriamo tra 6 e 30 quindi 27,5 GHz ci sono solo due studi disponibili e la cosa è strana ma andiamo a cercare questi studi e andiamo a vedere effettivamente che cosa è stato visto qui in fondo alla pagina possiamo cliccare per scaricare il pdf di appunto tutti gli studi che vengono menzionati che sono stati raccolti in questa tabella dove vediamo appunto la frequenza la densità di potenza applicata la potenza applicata in proporzione al peso dell'oggetto di studio e la durata dell'esposizione andiamo a cercare i nostri due studi ecco il 30,16 GHz quindi una frequenza abbastanza vicina a quella che ci interessa l'oggetto di studio sono stati cheratinociti umani quindi delle comunque delle cellule e comunque attenzione non è la stessa cosa che dire sto studiando sull'essere umano sto studiando gli effetti su un particolare tipo di cellula umana quindi non su tutte e importantissimo la durata dell'esposizione di un'ora francamente questo studio non è assolutamente coerente alla condizione di esposizione che avremmo in quanto noi saremmo immersi in questo campo ad alta frequenza 24 ore su 24 non solo per un'ora in tutta la vita quindi questo studio assolutamente non può essere preso in considerazione qualsiasi siano gli effetti che si sono poi visti vedendo la fine dalla tabellina quegli S e No che danno i vari effetti eccetera ma andiamo quindi a cercare il secondo studio eccolo su 25 gigahertz anche qui sono stati presi in considerazione dei tipi di cellule sempre umane credo sono stati applicati 20 watt per chilo e per attenzione un'esposizione di 20 minuti anche qui è chiarissimo che questo studio non possa essere significativo per dimostrare nulla riguardo appunto la condizione che ci si presenterà in futuro ovvero appunto di una totale immersione 24 ore su 24 andiamo adesso a vedere su un pdf pubblicato dalla Huawei stessa la detentrice della tecnologia 5G appunto cinese andiamo in fondo e vediamo appunto il progresso della ricerca 5G tra virgolette in questo paragrafo 4 e come viene mostrato dice che dei trial dei test sono stati iniziati globalmente però la cosa simpatica da notare è che in Cina quindi a casa loro fondamentalmente hanno testato fino alla frequenza di 5 GHz non sono andati oltre mentre come vediamo negli Stati Uniti e nel Giappone sono state testate le frequenze alte quelle più simili alla nostra 27.5 e ora vediamo le dichiarazioni dell'IRC a proposito appunto dei campi elettromagnetici come ad esempio 5G 4G 3G eccetera dove si dice che no non ci sono attualmente prove scientifiche sufficienti a sostenere un rapporto diretto di causa ed effetto tra l'esposizione di campi elettromagnetici e il cancro ma la comunità scientifica concorda sul fatto che sono necessari ulteriori studi infatti sotto l'agenzia internazionale per la ricerca sul cancro ha classificato i campi elettromagnetici a radiofrequenza come cancerogeni di gruppo 2B ovvero come possibilmente cancerogeni per gli esseri umani oppure agenti per i quali vi è una limitata prova di cancerogenità negli esseri umani e un'insufficiente prova di cancerogenità in animali dal laboratorio quindi fondamentalmente anche qui non ci sono certezze né da un lato né dall'altro quindi chiunque si ostina a dire di avere la verità in tasca sia dal lato che il 5G sia uguale a tutte le tecnologie wireless che abbiamo avuto finora o che siano uguali quelle del nostro paese come quello degli altri paesi è in errore perché fondamentalmente anche qui ogni stato può rilasciare le sue frequenze e le frequenze non sono tutte uguali mentre dall'altro canto chi dà l'altra certezza cioè che fa sicuramente male eccetera eccetera tutte le altre teorie che non voglio tirar fuori anche lì non ci sono assolutamente prove riguardo questo fatto quindi anche questi stanno cadendo in errore quindi riassumendo è vero che questo tipo di irraggiamento a radiofrequenza è totalmente sicuro o che sia sicuramente dannoso assolutamente no entrambe queste opzioni sono false la realtà è come ci ha indicato l'IRC stesso è che la comunità scientifica concorda sul fatto che vanno assolutamente fatte ulteriori ricerche bene questo assolutamente non voleva essere un attacco per cartoni morti che ripeto stimo tantissimo comprendo che queste che vi ho portato alla vista sono informazioni che qualcuno che ha abbastanza dimestichezza con questo campo io fortunatamente sono di formazione scolastica telecomunicazionista quindi sono potuto andare a cercare appunto le informazioni per chiarirmi un po' le idee su questa storia molto controversa perché appunto comunque non sapere tutto di tutto è una cosa umana e normalissima quindi io non voglio farne una colpa assolutamente a nessuno il mio voleva essere solo un appunto e un augurio per l'autore e chi come lui perché scommetto che non è l'unico che ha comunque giocato con questo argomento delicato forse con un po' troppa leggerezza spero quindi che questo mio video sia stato utile per schiarirvi un po' le idee per quanto riguarda gli effettivi e fondati e giustificati dubbi che si possono nutrire nei confronti della tecnologia 5G quindi concludendo rinnovo i miei auguri e complimenti all'autore di cartoni morti che ogni volta mi fa rotolare detto questo se vi è piaciuto il video mettetevi piace condividete ed iscrivetevi al canale ci vediamo al prossimo video ciao